è giunto il momento di fare quattro chiacchiere ve l'avevo promesso e adesso parlamo non è che avevo chissà quanta voglia di affrontare questo argomento per l'ennesima volta però su instagram ci avete scritto in centinaia su facebook uguale sotto i video che facciamo su youtube la stessa identica cosa quindi è giunto il momento di fare quattro chiacchiere i cani pericolosi esistono non esistono come si fa a capire se un cane è pericoloso come si fa a capire se un cane è adatto o non adatto a una famiglia come si può prevenire gli incidenti purtroppo mortali che capitano delle volte con un cane mi permetto di fare questo video e di dire la mia soprattutto perché io sono un addestratore cinofilo che vivo in simbiosi con i cani da oltre 20 anni quindi qualcosa di buono nella mia vita con i cani l'ho fatto ne ho visti veramente a centinaia centinaia e centinaia di casi posso dire qualcosa sì ho un'idea sì voglio parlare con voi questo è sì un canale family però voglio sfruttare la popolosità dei miei social per lanciare un messaggio sostanzialmente credo che sia una cosa più che giusta farlo se non lo faccio io chi lo deve fare negli ultimi anni purtroppo siamo abituati a leggere notizie veramente brutte che attanagliano il mondo del cane notizie spesso che non vorremmo mai leggere dolorosissime per chi le subisce parlo del caso che è successo qualche giorno fa del bambino di 15 mesi come magari posso parlare della nonnina che aveva sette cani in casa che perde il braccio come magari posso parlare dei famosi clc al nord italia se andiamo a scavare a ricordare di casi mi sono successi veramente tanti la domanda è una sola una sola ma è davvero colpa del cane io penso proprio di no e mi spiego meglio se quei cani fossero stati gestiti da persone che ne avevano la conoscenza da me o da un qualunque altro educatore cinofilo esperto perché di questo che parliamo l'esperienza della persona nel gestire il cane tutte queste notizie sicuramente non si sarebbero apprese no non sarebbero venute per nulla fuori ok adesso non è che voglio fare di tutto un erbo un fascio però è chiaro è sotto gli occhi di tutti la gestione del cane è fondamentale lo vedete nei nostri video nelle nostre storie come stiamo crescendo ginevra e lorenzo insieme e se vi permetto di fare questo video scusate se è poco ma io un cane di 40 kg cane lupo cecosnovac maschio adulto quattro anni e mezzo 5 ad agosto che proprio gli fumano i cosiddetti e in casa grazie anche al merito nostro è bravissimo quindi se proprio devo dire una cosa su questo argomento io mi sento proprio alla grande tirato in causa quando capita che c'è una famiglia che sta costruendo la propria vita insieme al proprio cane che ci scrive che ci manda le mail noi siamo contentissimi di rispondere e di fargli capire quali sono le difficoltà che andranno ad incontrare perché di questo che si tratta sì perché forse non è ben chiaro ma il cane può mordere il cane morde e può farlo anche in maniera mortale purtroppo vediamo sempre che non accada però può accadere è una possibilità e quando scopriamo vediamo leggiamo ci dicono di queste cose ci sentiamo tutti noi proprietari di cani sempre un po tirato in causa dice ma chissà il mio cane invece non lo fa è la colpa chissà di chi è se del proprietario e se è del cane è quel cane di una razza pericolosa è quel cane cattivo quel cane l'ha tenuto in gabbia sicuramente era gelosa ma di che cosa stiamo parlando finitela anzitutto di fare tutti quanti gli esperti perché gli esperti non ne siete per parlare e dire queste cose qua numero due questo non è un video che vuoi andare a spiegare veramente per filo per segni comportamenti dei cani quelle cose le lascio agli altri io già lo faccio tutti i giorni ho una testa così io vi voglio raccontare una mia idea perché magari potrebbe essere una cosa rivoluzionaria per cambiare questo sistema per far sì magari che si possano leggere sempre meno perché la possibilità che un incidente accada con un cane grande c'è sempre non dipende dalla razza sì e no dipende dalla razza sì e no però quello che ho io nella mente magari può aiutare davvero a tracciare un percorso a delineare un percorso che chissà da qui a dieci anni possa davvero ridurre questo tipo di imprevisto in italia c'è un buco un buco legislativo è stato fatto un esperimento del patentino per cani a milano non so se avete letto quella notizia un po vecchiotta che gli amici della lombardia sicuramente lo sanno che sono obbligati a fare il corso il patentino per le razze pericolose a me non piace quella roba lì proprio non soprattutto perché è gestita male sperare di poter colmare un buco con questi esperimenti non va bene io penso che arrivata a un certo punto del problema chi legifera queste cose qui dovrebbe lavorare a strettissimo contatto con noi esperti del settore e sì perché noi sapete siamo esperti lavoriamo con i cani dalla mattina alla sera e nessuno è meglio di noi nessuno conosce meglio di noi le problematiche che risiedono e ci sono dietro alla scelta del quella famiglia vuole prendere un cane quella famiglia ha quel cane ma quel cane non va bene per quella persona lì ed è lì che inizia il problema ed è lì che io voglio risolvere il problema perché sì bisogna fare un cambio generazionale di cani nelle case di tutti quanti noi però una volta avvenuto il cambio generazionale si potrebbe stare tutti quanti decisamente meglio e vi spiego come esempio mamma papà voglio un cane oppure amore prendiamo un cane ad oggi è semplicissimo se hai soldi lo compri se no se il buon cuore non vuoi comprare vai a prenderlo al canile insomma in modi per prendere un cane ce ne sono e come quello che voglio fare ne parlavo con erica ne ho parlato con qualche mio collega e anzi se qui sul web qualcuno vede questo video e vorrebbe collaborare alla stesura quindi vi prego fatelo camminare il più possibile questo video alla stesura di quello che vi sto per dire non esitare a contattarmi contattatici che magari insieme con più commenti possiamo veramente realizzare qualcosa di rivoluzionario la mia idea è creiamo andiamo a creare un test perché tanto la conoscenza del cane ad oggi è infinita conosciamo come si comportano le razze quali sono le attitudini di razza riusciamo a prevedere i comportamenti degli animali possiamo fare a livello scientifico un passo avanti ok e allo stesso modo noi persone intelligenti sappiamo come com'è il nostro stile di vita cosa facciamo durante la giornata cosa ci piace fare durante l'estate qual è la disponibilità economica che noi abbiamo quindi il mio il mio la mia voglia è quello di creare una una sorta di test chiamiamolo così un test ma magari potrebbe essere anche un software che incrocia tutti questi dati ok una volta incrociato tutti questi dati qui viene delineato il profilo del proprietario ossia che cosa faccio io la mattina quanto tempo per me quanto tempo per la mia famiglia quanto tempo magari per da dedicare a quel cane a quella razza quella situazione ai vari possibili scenari dove vado in vacanza parto in vacanza 15 giorni un mese due anni ho dei bambini sì no quanti ne vorrò sono una persona single in quanti metri guardati vivo o giardino insomma tante domande del genere che vanno a delineare un habitat ideale per questo tipo di cane quest'altro tipo di cane quest'altro tipo di cane quindi se il tuo habitat ideale è un habitat per un faccio non mi dirai a caso è maltese tu potrai prendere un maltesino non mi vai a prendere un pitbullino non mi vai a prendere un pastore tedesco non mi vai a prendere un cdc perché dal documento che è stato redatto e il tuo stile di vita per i prossimi cinque anni doveva essere questo doveva essere questo non mi dite che non è prevedibile è prevedibile no se lo stato riesce a prevedere quante tasse pagheremo negli anni successivi io posso riuscire a prevedere lo stile di vita di una persona nei prossimi 2 3 4 5 anni non lo posso fare lo posso fare certo che si può fare e allora facciamo facciamo questo perché di questo quello che si parla dobbiamo parlare di questo di come risolvere il problema del cane che viene trascurato che non viene capito che non viene compreso che le sue attitudini di razza non va non vengono assecondate in questo modo qui e questo quello che dobbiamo fare creare un test valutativo prima che la persona possa comprare o adottare un cane so che i volontari qualche volontario lo fa lo fanno in tantissima dire il vero gli riesce molto bene e allora perché non espandere questa cosa in maniera più approfondita con la collaborazione non solo ai volontari ma di centri cinofili specializzati atti a recuperare problemi comportamentali del cane io voglio che questi centri cinofili qui collaborino con noi e questo ha un senso quello che vi sto dicendo perché perché sulla carta è tutto molto bello nessuno ti direbbe mai di no ma dal momento in cui bisognerebbe mettere in piedi un sistema che controlli organizzi rilasci certificati e vada a vedere che poi quella situazione realmente così incroci dati cioè si mette in piedi un'infrastruttura enorme a livello nazionale chi lo fa avanti chi lo fa perché questo è un altro problema lo facciamo noi lo fanno i piccoli o i grandi centri cinofili che sono specializzati anche nel recupero del comportamento dell'animale e lo stato magari potrebbe riconoscere una piccolissima cosa una cavolata a questi centri cinofili perché che che gli levano una patata bollente no io poi dopo per carità può succedere sempre l'errore può succedere sempre tutto ma volete mettere quando siete accompagnati da un professionista che vi dice no guarda qua tu non sei proprio una famiglia da san bernardo tu tu lo faresti soffrire troppo forse è meglio che prendi un labberto non lo so sto sparando così a cavolo le razze tu non sei una famiglia da levriero no forse sei più una famiglia da sciarpei sparo razze a caso per farvi capire un po come come intendo perché non sei la famiglia da levriero perché sei un poltrone che dormi la mattina la sera non ce la fai neanche a fare quattro metri dal divano per andare in bagno a fare la pipì cioè queste sono le cose che devono essere analizzate qui che io voglio entrare e questo che dobbiamo fare quindi io chiedo soltanto una piccola cosa adesso con questo video che come vedete non è più come come video che stiamo facendo prima voglio sfruttare la visibilità del mio canale per lanciare questo messaggio facciamo qualche cosa ok condividete fate camminare questo video taggate anche i vostri amici cinofili centricinofili politici taggate con chi vi pare si può mettere insieme un progetto serio che possa accompagnare la famiglia il proprietario chiamarlo come vi pare dalla scelta consapevole dell'animale fino a poi guardate che una cosa che potrebbe funzionare bene perché se il centro cinofilo rilascia un attestato per quella famiglia magari potrebbe creare anche che ne so delle promozioni magari quella famiglia potrebbe portare il cane in quel centro cinofilo oppure il centro cinofilo gli va a casa a risolvere alcune problematiche a fargli vedere come funziona come non funziona in maniera scontata non lo so comunque si creerebbe un giro un mercato persone più consapevoli perché di questo che si parla quando possiamo cercare le informazioni su internet è veramente complicato orientarsi oggi è un casino non si capisce più niente non è più come cinque o sei anni fa eravamo solo noi qui eravamo solo io e rene non è più così quindi creare qualcosa che sia alla portata di tutti e che un proprietario sia consapevole di quello che fa prima che lo fa può realmente ridurre il rischio di incidenti gravi se non mortali ok poi per carità se tu il pincer lo chiudi in uno stanzino di mezzo centimetro per mezzo centimetro è normale che anche quello però è un caso raro ok è un caso raro a quel punto tu il cane non lo prendi proprio non lo prendi proprio quindi è questo quello che voglio fare vi prego fate camminare questo video date mia mano a creare un'infrastruttura un'idea una bozza qualcosa che possa camminare che possiamo raccogliere firme non lo so parliamone creiamo creiamo un gruppo facciamo qualcosa portiamo un risultato sul tavolo di quelli e di quelli ai piani alti che magari decidono le cose ho provato già in passato a farlo in passato a farlo parlo di quasi dieci anni fa e ho avuto molte rotture di scatole molte rotture di scatole perché questo è un risvolto economico da un'altra parte che non sto qui a dirvi dove però ma siamo davvero davvero così così squali da mettere in questo caso la vita delle persone davanti a ai soldi ma di che cosa stiamo parlando basterebbe davvero tanto poco cane giusto alla persona giusta il cane giusto alla famiglia giusta una famiglia che si possa occupare di quel cane per quello che è quel cane e al contrario un cane che sia adatto a quella famiglia seguiti poi tutti condito tutto condito da un contatto che è la persona che ti ha affidato il cane è la persona che ti ha consigliato di prendere questo cane qua è questo quello che voglio fare ma sono sicuro che lo volete fare anche voi e che mi darete una mano perché come vi ho fatto vedere inizio video ve lo faccio rivedere adesso sono sicuro di questo assolutamente certo di questo e quindi boh datemi una mano dai commentate condividete e taggate persone che lavorano in cinofilia magari davvero si può fare qualcosa creiamo creiamo questo piano portiamo qualcosa ai piani alti cambiamo veramente il mondo il modo di vedere della cinofilia perché non è adesso è questa cosa non cambierà dalla sera la mattina quello che va avanti da 20 30 anni però di certo se non iniziamo non cambierà mai e sono sicuro che soltanto questione di una generazione una generazione di cani dieci anni dalla prossima tutto potrebbe essere diverso ma è sempre uno slogan politico ma non lo è è solo questo è veramente solo questo